Aspettativa Realtà Half-hours later Bene, come abbiamo visto faccio abbastanza schifo a palleggiare Ma vabbè, non è importante Ho fatto questo video perché appunto volevo un attimo Diciamo fare qualcosa di diverso dal solito E magari strapparvi un sorriso Spero di avercela fatta Ovviamente ho voluto fare questo video un po' così diverso dal solito Giusto per vedere se vi poteva piacere Se poteva andare bene Spero che vi sia piaciuto Ovviamente se vi è piaciuto fatelo sapere qui sotto nei commenti O comunque mettete mi piace E condividete il video se vi è piaciuto Per farlo vedere anche ai vostri amici magari E che altro? Cioè appunto ho deciso di fare questo video lo stesso Anche se non so palleggiare Praticamente se avete visto il video Non so quando Cioè già faccio fatica quella palla Con un rotolo di carta igienica È ancora più improponibile per me Ma diciamo che mi sono un po' preso in giro da solo Perché comunque mi piace fare l'autoironia Credo che l'autoironia sia molto importante E quando uno ha diciamo consapevolezza di ciò che sa fare Cosa non sa fare L'autoironia secondo me ci sta sempre Un po' il prendersi in giro da soli va sempre bene Adesso qui era un attimo per spiegarvi brevemente questa cosa Vi ricordo di seguirmi su Instagram Trovate comunque il link qui sotto in descrizione O comunque qui in basso O qui non lo so E da una delle parti Esce il diciamo bollino che vi dice come mi chiamo su Instagram Quindi mi raccomando Se già non lo fate Andate a darci un'occhiata al mio profilo Così potete essere sempre aggiornati su ciò che faccio Quando esce un nuovo video appunto lo dico lì Quando vado in live lo dico lì Ma magari potete anche diciamo Conoscermi meglio Conoscere un po' quello che faccio durante le mie giornate Se vi può interessare Comunque il link è in descrizione Vi ricordo di seguirmi anche su Twitch Se già non lo fate così non vi perderete le mie live Perché è molto importante Faccio le live su Twitch Se già non lo sapete O comunque se già non mi seguite Andate a darci un'occhiata E niente per questo video è tutto Voi fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti Mi raccomando condividete il video E mettete mi piace se il video vi è piaciuto Iscrivetevi anche al canale Se non l'avete ancora fatto ovviamente E noi ci vediamo con un prossimo video Ciao 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 Ciao